Un incontro tra cultura all'insegna della sperimentazione culinaria nella straordinaria cornice artistica dei mosaici Bisazza. Si chiama Infusion, l'innovativo format di cucina ospitato dalla Fondazione Bisazza a Montecchio Maggiore. Sei chef stellati provenienti da tutto il mondo guidati dal vicentino Lorenzo Cogo hanno messo a confronto le proprie espressioni culinarie con l'obiettivo di condividerle e contaminarle. Il significato parte dal nome, da Infusion, ovvero infusione, un'unione di persone, di culture e di stili completamente diversi ma contemporanei, persone che stanno lavorando per la contemporaneità nel mondo della cucina. Siamo in una fondazione Bisazza, ovvero in un luogo di arte, quindi riuscire ad unire l'arte tale con l'arte culinaria credo che sia un orgoglio per un sindaco come me poter ospitare eventi di questo calibro. Un evento che ha messo in risalto la professionalità del cuoco, visto come artigiano del cibo e che per questo ha avuto il sostegno della Confartigianato Locale. Questa cena rappresenta per noi quello che è un artigiano come il cuoco, che valorizza il prodotto tratto, preso dalla terra, preso in maniera molto semplice, lo trasforma e diventa un alimento per la nostra vita. Come mondo dell'artigianato noi ovviamente siamo dietro a chi sa fare queste cose e le spingiamo anche nel settore del food dove siamo un'eccellenza a livello mondiale. Non a caso c'è l'Expo e non a caso questa è una delle grandi occasioni nel quale vicentini, veneti e italiani si possono ritrovare. professionalità da trasmettere anche i giovani chef in erba delle scuole alberghiere vicentine che hanno avuto la possibilità per una sera di stare a fianco di maestri internazionali della cucina. La cosa bella è che in questa serata sono state coinvolte le scuole della formazione professionale che preparano in particolare nella ristorazione e nell'accoglienza. A questi ragazzi viene data la possibilità grande di lavorare con grandi nomi, di mettersi in, così a misurarsi con degli eventi importanti con centinaia di persone ed essere all'altezza e così misurano anche la loro formazione, quella che imparano durante l'anno. Tra arte e buona cucina Infusion ha messo in vetrina tutto il meglio del Veneto, regione che grazie ai suoi chef stellati e alla sua tradizione enogastronomica continua a guidare la classifica delle regioni più turistiche d'Italia. La prima motivazione per cui un turista sceglie il Veneto per le proprie vacanze è proprio l'enogastronomia, quindi la nostra cucina diventa un biglietto da visita importantissimo per far conoscere i nostri territori ma anche i nostri prodotti. Questo evento come oggi è una veramente fusione di tutto, non è per caso siamo qua in Veneto perché abbiamo tutto, ripeto, i prodotti fantastici, le persone che direi colonna della gastronomia è un incontro non per solo divertimento, non per conoscersi come colleghi di lavoro, ma anche unire in nostro territorio tutte le persone talentuose, tutto ciò che veramente per noi Veneti è importante.